Giornata di test sul circuito del Mugello in Toscana. In pista i due piloti Ferrari Sebastian Vett e le Charles Clerc al volante dell'SF71H. Un test a porte chiuse per consentire alla squadra di fare pratica in vista del prossimo Gran Premio in Austria il 5 luglio, ma anche per le normative da coronavirus. Questi video realizzati martedì 23 giugno dai tifosi Ferrari intorno alla pista. Oh che giugno m'entra.